Ha rotto il vetro di una finestrella di un lucernario e si è introdotto nel bar Scooby-Doo di Piedimolera e a di il 25enne di origini marocchine, già noto alle forze dell'ordine, arrestato ieri dai carabinieri di Premosello Chiovenda. All'interno del bar ha preso due iPhone e delle cuffie, oltre a 50 euro in contanti, ma mentre cercava di andarsene con l'aria furtiva è stato bloccato dai militari. Il giovane aveva il volto coperto ed è stato trovato in possesso di una pistola d'aria compressa di un coltello lungo 14 centimetri con una lama di 6 centimetri. Questa mattina è comparso in tribunale per la convalida dell'arresto con l'accusa di tentato furto aggravato dal fatto di aver compiuto violenza sulle cose con il volto coperto e armato. La PM Anna Maria Rossi ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere, sottolineando che si tratta di un soggetto recidivo senza occupazione e dedito all'uso di sostanze di alcol. In aula è stato anche proiettato il video del tentato furto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del bar. Il giudice ha accolto la richiesta e ha disposto il carcere. Non solo il 25enne ha anche violato il foglio di via emesso dal questore del VCO un anno fa che gli vietava di entrare nel territorio di Piedimulera e Frazioni.